Il Policlinico di Milano è un centro importante per la raccolta della donazione di sangue, la lavorazione del sangue e la consegna a tutte le strutture sia interne del Policlinico che altre strutture presenti su città di Milano che poi eseguono interventi chirurgici e risposte in urgenza, emergenza ai pazienti che si rivolgono ad esempio al pronto soccorso. Ogni giorno c'è una quantità di sacche che vengono lavorate e messe a disposizione estremamente importante, tenete conto che ci vengono richieste quasi 100 sacche di sangue al giorno, ma per rispondere a questa quantità l'importante è avere una base di sicurezza, un minimo di sacche disponibili e quindi tutti i giorni i nostri colleghi, i medici, gli infermieri, i biologi, i tecnici del centro trasfusionale lavorano tantissime sacche di sangue, tantissime donazioni. Insieme a questo però noi abbiamo avuto la necessità in questi giorni, a seguito di una diminuzione delle donazioni, di chiedere ai colleghi chirurghi di porre attenzione nella programmazione degli interventi, quindi far riferimento al centro trasfusionale prima di programmare l'intervento chirurgico. Questo ci sta mettendo un po' in difficoltà proprio perché i pazienti hanno dall'altra parte la necessità di essere operati e quindi cerchiamo di operare su più fronti. La giornata del donatore di sangue serve a mettere tutti quanti davanti alla possibilità di fare una donazione, di dare un po' di sé per aiutare un'altra persona che ha bisogno. Tutti possono donare, ci sono delle limitazioni che tra poco vedremo, ma l'importante è farsi la domanda, perché no? Posso tentare, posso donare il sangue, non faccio del male alla mia salute, probabilmente, in tanti casi addirittura ho dei benefici rispetto a questa azione, ma sicuramente faccio del bene agli altri. Posso farlo anche se sono giovane, giovane. Abbiamo degli studenti delle scuole superiori maggiorenni che vengono a donare sangue da noi, studenti universitari, quindi tante sono le possibilità di intervenire e tante sono le possibilità di essere efficaci in questa donazione. Alla donazione di sangue possono accedere sia uomini che donne dai 18 ai 65 anni. Ovviamente ci sono vari criteri di donità alla donazione che vengono valutati dal medico in sede di visita e se il donatore risponde a questi criteri accede direttamente alla donazione che è di 450 ml indistintamente per maschi e femmine. Donare sangue è importante perché il sangue, che è un farmaco a tutti gli effetti, è un farmaco insostituibile, non esiste un sangue artificiale. Quindi i pazienti che necessitano di sangue per la loro terapia, per le loro malattie, lo possono avere solamente se ci sono volontari, quindi donatori volontari che offrono in modo del tutto gratuito il loro sangue. Importante non solo per la salute e la tutela dei pazienti ma anche per una tutela della propria salute perché essere un donatore periodico vuol dire sottoporsi periodicamente a visite mediche e ad esami che tengono sotto controllo il proprio stato di salute. I gruppi sanguigni sono quattro, alcuni nella popolazione caucasica più frequentemente rappresentati e questo vuol dire che può essere che un sangue di un certo gruppo sanguigno venga consumato più rapidamente rispetto a unità di sangue di altri gruppi. conseguentemente quando l'inventario per quel gruppo sanguigno cala facciamo delle chiamate ai donatori di quel gruppo, quindi una chiamata a gruppo diciamo, in modo da riportare l'inventario per quel gruppo sanguigno a valori accettabili e che ci assicurino la possibilità di assicurare la terapia ai pazienti di quel gruppo. Tutti i gruppi sono importanti, donare sempre indipendentemente dal proprio gruppo sanguigno però a volte soprattutto per interventi che hanno delle grosse perdite possono portare rapidamente al calo del numero delle unità di quel gruppo presenti in inventario e quindi da qui la necessità di sollecitare i donatori di quel gruppo alla donazione. Se chi non ha mai donato ha qualche perplessità, qualche timore, paure, è liberissimo di venire presso il nostro centro, chiedere informazioni, siamo qui apposta per darle, per farvi vedere cosa facciamo, come lavoriamo. L'importante, ripeto, è donare perché la salute dei pazienti sta a cuore a tutti, soprattutto a chi ha avuto esperienza di cari che hanno necessitato di trasfusione. Grazie Grazie Grazie